Mi ha voluto bene, mi vuole bene e io contraccambio, purtroppo non posso più contraccambiare in campo che è la cosa più bella, però li ringrazio tanto di tutto, questa maglia del Padova veramente questa squadra me la sentivo mia, me la sentivo addosso e comunque adesso è così, adesso fatemi operare poi dopo vi dico quando torno